bella a tutti i fourniters benvenuti su leon tube mi raccomando vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale in questo video andiamo a vedere la missione rimbalza su paracadute e precipita no scusate ho sbagliato sbagliato non questa adesso andiamo a fare quello degli incarichi settimanali della settimana numero 14 andiamo a fare questa qua dove usa una piattaforma di lancio a sponde del saccheggio e tana strana o no l'ho persa ok vabbè tana strana è qua vediamo un po vediamo un po eccola torniamo su abbiamo la rampa dove era qua dentro ok vabbè in questo caso qui non c'è ok andiamo allora a vederla a prenderla qua e poi ci dirigiamo a sponde del saccheggio che è praticamente eccola qua ce la fa già vedere qui nella mappa vediamo un po se me la conta questa si perfetto ok prendiamo il nostro bel paracadute e ci lanciamo intanto prendiamo anche eccole qua le capsule corpo prendiamo l'onda energetica e la nuvoletta la nuvoletta ovviamente per spostarci l'onda energetica che ci servirà per un'altra missione quindi riusciamo a far tutto anche abbastanza veloce ok andiamo a completare questa missione quindi mi dirigo là in quel punto con la nostra nuvoletta ora atterriamo aspettiamo che ricarica andiamo a nuoto ovviamente così facciamo anche più veloci in questo modo guardate e ci stanno sparando ok allora lì praticamente l'ho già passata eccola qua ce ne sono diverse e la missione è completata se il video vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento e se vi va come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale un saluto a tutti ciao ciao